E' un'altra cosa, non c'è la prima, ma è tutto in Napoli. Cioè non ecco, non c'è voi. Che ristorante? Che ristorante? E' un'altra cosa, non c'è la prima cosa. Però qui è un quinto lontano, a un certo punto ci hanno fatto mangiare delle cose del governo italiano. E' un'altra cosa, non c'è la prima cosa, non c'è la prima cosa. E' un'altra cosa, non c'è la prima cosa, non c'è la prima cosa, non c'è la prima cosa. E' un'altra cosa, non c'è la prima cosa. E poi bisogna aprirsi più, bisogna fare i valutti soli, bisogna prepararmi. E' un'altra cosa, non c'è la prima cosa, non c'è la prima cosa, non c'è la prima cosa. E' un'altra cosa, non c'è la prima cosa, non c'è la prima cosa, non c'è la prima cosa. E' un'altra cosa, non c'è la prima cosa, non c'è la prima cosa, non c'è la prima cosa. E' un'altra cosa, non c'è la prima cosa, non c'è la prima cosa. E' un'altra cosa, non c'è la prima cosa, non c'è la prima cosa, non c'è la prima cosa. E' un'altra cosa, non c'è la prima cosa, non c'è la prima cosa, non c'è la prima cosa. E' un'altra cosa, non c'è la prima cosa, non c'è la prima cosa. E' un'altra cosa, non c'è la prima cosa, non c'è la prima cosa. E' un'altra cosa, non c'è la prima cosa, non c'è la prima cosa. E' un'altra cosa, non c'è la prima cosa, non c'è la prima cosa. Ecco qua. Ecco qua.